bello ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della serie principale di minecraft lega oggi andremo a scostruire una casa con della roccia del nether allora ragazzi prima di iniziare vi ricordo che avete tutti i link in descrizione della minecraft software al sito nation e tutto quello che vi serve e non intendo non mi sono bastati i materiali non lo so se mi basteranno in più ragazzi non mi ricordo se non lo scorso episodio avevo detto che eravamo in quel villaggio ragazze da questi pappagalli che rega è stato veramente fighissimo posso dire è stato fighissimo in più rega mi ero creato anche un mondo con un mio amico che ha avuto una fortuna incredibile ragazzi lo posso dire lo posso dire non mi ricordo rega se anche questo ve l'avevo detto rega perché come devo dire lo ho già detto forse non lo so come sono dedicati su un deserto no con delle piramidi con ok questa quale dovrebbe essere la base ma in realtà non è la base perché non la farò così non già non piace la casa sarà così però però mica la posto io non la voglio mantenere solo ed esclusivamente così perché non mi piace andare a prendere un altro stack e niente rega intanto praticamente diciamo così questo mondo facciamo questo mondo abbiamo fatto questo mondo e praticamente siamo sposati in mezzo a quattro piramidi nel deserto con un villaggio sul mare dove sono i delfini abbiamo preso e ovviamente il villaggio del villager e c'era prima interga anche quella raga due miniere abbiamo trovato rega tutto ip lasciamo stare a un mordeaux di roba se fosse stata quella serie con questa serie insomma quella serie in quel mondo in questa serie raga non so se in quel villaggio ci andremo io vorrei partire un giorno all'esplorazione con i miei pappagalli perché ce ne so tipo un botto è praticamente rega non so neanche come e cosa fare la perché si è vero io potrei partire all'esplorazione questo sì ma quando dove perché cosa dobbiamo avere qualcosa da seguire ok qualcosa aspettate io adesso io voglio fare così perché non mi piace così cioè io mica voglio fare cosa a casa no io mi chiedo vabbè faccio una casa dai non so che per chi fare non so mai che faccio una casa questa cosa mi serve anche per il mio mondo una posso dire una casa con questo materiale perché non l'ho mai usato ce l'ho usato quella cosa che manco a sé cioè con la lava che devo fare in futuro sì ma non so non se lo farò io voglio fare una casa è dato un tempo che volevo fare tipo una casa del genere però poi non mi è mai venuta la voglia essere sincero con altre cose facciamo così il tappeto ragazzi non so se posso chiamarlo tappeto va bene lo stesso perché rega se il tappeto sarà il tappeto per l'altro no è praticamente volevo fare l'altra parte che sarebbe questa parte qua esatto adesso chiuditi ho già preso quello che dovevo prendere ad esempio il letto rega poi meno craft insomma che siamo craft in realtà non mi sarebbe perché ho già tutto ok ragazzi questa qua non devo mettere l'elmetto perché mi hanno calciato l'elmetto allora rega questa parte è tipo parte relax vociamosi parte relax tanto l'abbiamo la parte la parte relax qua abbiamo il resto vedete la crafting table con tutte le cose e rega ho voluto fare questa questo design che mi è piaciuto tantissimo a me che collega rega alla fine queste due che è veramente bello e poi ragazzi poi di sopra questa casa regala che non può nendere io non lo so come possiamo chiamarla questa casa non lo so non lo so anch'io però una cosa che devo sapere è questa mi sono craftato rega tantissime torce ancora di più di altri episodi rega perché adesso facendo tanti torce pare che questa quella scala mettiamo acqua giusto così è praticamente ragazzi non c'è manco bisogno che ho portato pure le scale ragazzi per rendere la cosa più bella perché non farla più bella e ho portato le scale rega e dai rendiamo la cosa più figa no rega la voglio fare ho voluto cambiare completamente va facciamo uscire ha voluto cambiare completamente tutte le cose va facciamo uscire c'è a corso come cacchio è partita c'è tantissime scale dico soltanto questo e le torce rega io le voglio mettere una caso dal centro lo posso dire lo posso dire e qua regala lo chiameremo nether così rega per coprire tutta questa parte due le parti non mi non voglio fare tutti i lati non voglio fare sempre qua poi vai qua e niente rega spero che il video vi sia piaciuto se fosse così rileva riconosce non ballare che niente